Hey Killar, Harry Bro, i Dogviliok presenterar in avdi besta forbo Talangana in Helleverden, hancomer from Zverje o Ketar, Rooney Bardagi Veramente in tanti di voi mi hanno chiesto nei commenti sotto gli ultimi video di fare di questo giocatore appunto Rooney Bardagi classe 2005 del Copenhagen, anzi novembre 2005 quindi quasi un 2006 però prima di andare alla nostra questione mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate le campagne notifiche prima sempre aggiornate appunto sulle news ma soprattutto mettete tanti piace, iscrivetevi perché veramente tantissimi di voi in primis mi hanno chiesto il giocatore e tantissimi altrettanti di voi vedono i miei video ma non sono iscritti al canale quindi perché non metto una campellina e cliccare sull'iscriviti per neanche spiegare tempo a cercare i miei video vi rivedrò indiettamente le notifichine ma chi è questo non i Bardagi? appunto un ala destra pieno invertito classe 2005 svedese di nazionità svedese anche se lui comunque di seconda nazionità è siriano nel 2020, nel luglio 2020 il Copenhagen o meglio l'FC Copenhagen l'ha acquistato dal Malm FF giocava nella formazione Under 17 sotto età dopo i danesi l'hanno aggregato alla formazione Under 19 ma ufficialmente dal genio 2022 è stato totalmente spostato nella prima squadra come vi dicevo un ala destra pieno invertito 182 cm per lui che dal 2021 è anche colonna portante della nazionale scusate Under 17 della Svezia con la quale ha già giocato 6 partite segnando 5 gol non male assolutamente un ala destra appunto pieno invertito che a volte ha giocato anche come trequartista nel Copenhagen che comunque attua a due modi diciamo il 4-4-2 e il 4-2-3-1 e lui pressoché è stato impegnato solitamente nel ruolo appunto di ala destra pieno invertito un giocatore ben messo fisicamente 182 cm quindi ben sviluppato ben diciamo da una costituzione fisica ben delineata nonostante la giovane età ma soprattutto è molto interessante ovviamente sul campo quindi veramente un gran bel mancino già una discreta confidenza anche col piede debole quindi col destro gli piace molto giocare un po' più accentrato sul campo grande velocità, ottima protezione palla salta sempre il primo avversario quindi un giocatore molto utile a creare superiorità numerica in fase avanzata in fase offensiva scusate salta al primo pressing ottimo controllo di palla ottima tecnica di base ottimi tempi di gioco soprattutto negli inserimenti e nel passaggio Inara si sa muovere anche molto bene giustamente con la prima squadra del Copenhagen si deve ancora più che altro non dico ambientale ma prendere confidenza perché comunque il suo minutaggio ancora non è proprio altissimo diversa situazione è con l'azione svedese Under 17 dove ha giocato molto di più dove ha una conna portante quindi se nell'Under 17 svedese ha comunque un feeling con il gol e sa e può mostrare totalmente le sue capacità giustamente col Copenhagen ci vorrà un po' più di tempo anche perché con l'Under 17 ovviamente più o meno con i parità mentre magari nella prima squadra deve combattere magari con giocatori un po' più esperti come già un Boeving ad esempio che comunque un 2003 con prima aveva comunque un Jonas Vindietro che comunque è un attaccante, un giocatore offensivo prima che passa salvo al subito ovviamente però comunque deve ancora imporsi in prima squadra veramente un giocatore tanto interessante veloce, intelligente tatticamente sa proteggere palla in modo ottimale ottimo viso di gioco e ha quella sana spregiudicatezza che a volte lo porta un attimino a eccedere magari nel portare palla o cercare magari l'uno contro uno in modo non dico compulsivo ma un po' più reiterato ovviamente può crescere ragazzi è un 2005 quindi capite bene che un 2005 che già fa parte della prima squadra del Copenhagen ad ora insomma è già bella roba e ha superato un pochino a livello di precocità quello che anni fa veniva considerato uno dei più grandi talenti danesi vuol dire Mikkel Duhlund-Polsen che lui comunque esordì in prima squadra con l'FC Michelin qualche anno fa ormai per come un 97 ad ora però ha 17 anni quindi capite bene che Bardagi sta veramente anticipando i tempi un giocatore che ripeto è molto utile molto bravo sul breve che sul lungo nel dribbling sia stretto che appunto ottimo nel salto dell'avversario che ripeto sa essere utile anche in fase di assist è un giocatore uno alla destra più invertito come vi ho già detto però lo vedo bene anche in primis come stanno di centrocampo uno di centrocampo a quattro ma anche da plasmare un pochino come secondo appunto quanto meno come una falsa seconda punta un po' come può essere può essere un Icic per l'Atalanta quindi una seconda punta che però arretra un pochino il raggio d'azione quindi in primis veramente lo considero un grandissimo talento perché è completo è molto completo per l'età che ha perché veramente tutto salvo ripeto qualche difettuccio di interpretazione di gioco magari deve un pochino calmarsi a livello di eccessiva confidenza ma veramente sono pochissime le occasioni dove è troppo confidente su se stesso mi vende a paragonarlo a Hendrick se non si chiama così Hendrick si chiama un 2005 brasiliano che è sulla bocca di molti un giocatore offensivo anche lui però io considero Bardaggi molto superiore vi spiego il perché perché Bardaggi è un 82 ma può ancora sviluppare secondo me anche non di tanto il livello fisico quindi insomma può crescere e può mettere anche un po' più di massa ma non che lo rallenti bensì che gli dia un po' più di possenza fisica Hendrick invece è più bassino sono nero sul 1,70 più o meno il problema è che è troppo sviluppato cioè a livello muscolare il suo raggio di miglioramento a livello muscolare è veramente basso lui è così ma poco può crescere quindi ora fa la differenza magari con quelli di 17, 18, 20 anni ma quando si troverà a diciamo affrontare difensori molto più rognosi molto più grossi di lui e ragazzi il gap va molto a appiattirsi mentre Bardaggi ripeto ha dei margini di sviluppo veramente alti domanda che sicuramente molti mi faranno nei commenti ma può essere utile per una squadra italiana allora no allora si se lo si prende e ci si punta se però si prende un giocatore del 2005 quasi 2006 per poi dire vabbè ma è giovane deve crescere lo si sbatte in primavera ragazzi no perché lo si perde e non è che si arresta al suo processo di crescita bensì lo si depotenzia quindi sì può essere utile per le squadre italiane magari partendo da squadre come Lazio o Fiorentina perché magari lì ha un po' più chance di giocare e spero anche Lazio faccia giocare un po' più Luca Romero però vabbè pensi di miei però ripeto devono puntarci quindi o lo prendi e lo aggreghi alla prima squadra e li fai fare 10-15-20 partite l'anno anche da subentrato ma se riprenderlo come ha fatto Lazio con Luca Romero e poi lo fa allenare con i grandi ovvio un periodo di trattamento ci deve stare ma che non sia lunghissimo 6 mesi 7 mesi ma massimo una stagione ma comunque quelle 10-15 partite anche da subentrato devi fargli giocare per fargli prendere confidenza appunto con il campo con la prima squadra e con il calcio italiano ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscete il giocatore se vi piacebbe averlo se magari volete avere un po' più di delucidazioni però ecco spero che il video vi sia stato utile appunto per capire chi è questo Rooney Bardagi svedese classe 2005 quasi 2006 se il video vi è stato utile e vi è piaciuto ovviamente lasciate un like al video iscrivetevi al canale soprattutto e attivate ancora soprattutto di più la campanellina delle notifiche prima di essere sempre aggiornati sulle news vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie grazie grazie